siamo sulla edit page abbiamo finito il nostro montaggio traccia principale e traccia con immagini di copertura in av2 vogliamo fare un controllo finale per vedere se ci sono dei frame duplicati all'interno della timeline chiaramente duplicati involontariamente abbiamo una funzione comodissima andiamo su view e andiamo ad abilitare il show duplicate frame clicchiamo e possiamo vedere che compaiono in alcune clip delle bande colorate in alto di colore differente i colori differenti identificano gli accoppiamenti questa clip è completamente identica a questa questa viola è esattamente uguale a questa qua c'è una replica anche dell'audio questa clip in particolare alcune bande blu e altre no cosa significa vuol dire che alcuni frame sono duplicati alcuni qua e alcuni qua all'inizio ed altri no questa funzione funziona unicamente sulla edit page e puoi configurare uno shortcut direttamente dalla keyboard customization direttamente tra